Salve a tutti amici Sono Paolo Fiat e sto andando sui cassoni Ho fatto un piccolo lavoretto oggi niente di che E ve lo voglio far vedere così in un video Non pubblicherò niente su youtube Eccolo qui Il piccolo lavoro che ho fatto oggi Qui vi faccio del sacco Non sponsorizzo nessuno Quindi ve lo faccio vedere semplicemente così Se volete anche voi sapere quello che faccio io Io sono piuttosto parente possibile con voi E vi faccio vedere questo piccolo lavoretto che ho fatto oggi Niente di che Ve lo faccio vedere ben inquadrato qui Avevo lì delle insalate che avevo seminato e sono nate E ho detto prova a trapiantarle così Perché ho bagnato tutto quanto per bene Ho messo questo terreno qui Questo terriccio qui Che comunque è fatto con una buona miscela di compost Di torbero Lo trovo buono anche per il prezzo che ha Perché comunque costa un euro un sacco da 20 litri Quindi non penso che sia una spesa tanto grande E l'ho inserito Ho praticamente messo tutto il livello Ho bagnato Ho bagnato molto bene Quindi il terreno sia bello zuppo Come facciamo i trapianti in vaschetta Di solito facciamo il terreno bello zuppo Vi ho dato circa 5-10 litri di acqua qui più o meno Ho messo le insalate Ho usato questo trapianto a Torino qui Che ho poi Questo trapianto a Torino qui Che anche questo qui è vecchio Ce l'ho Comunque lo trovate sui vari garden 3 euro Non tanto E ho fatto questo piccolo trapianto Ho provato a trapiantare così E sicuramente qui mangeremo insalate Ecco Insalate che Qui sarà il posto Andrò a seminare ancora insalate Sul secondo ciclo Insalate che vanno a fiore Ma non mi danno problemi Perché io ogni Perché io quando voglio Mangiare insalate Faccio la mungitura Ma la mungitura Te lo lasciando stare Faccio la sfogliatura Ecco Parliamo un po' più tecnico Faccio la sfogliatura Delle varie cose Quando la pianta È andata Quando la pianta va proprio a fiore Che ho mangiato tutte le foglie La tiro su La lascio andare un po' a fiore Come questa qui Come questa qui E poi la do alle galline Che le galline ci mangiano Tutte quante le foglioline E fanno tutto quello che vogliono Ecco E lì vedete Ho ancora insalate Ecco Adesso Adesso qui per la luna Sarà favorevole Seminerò una varietà di insalata Consociata con i ravanelli Però Un nuovo esperimento Che voglio fare E niente Io mi sono messo qui Praticamente In ginocchio Qui Così Sui miei cassoni È l'unico momento In cui ci ginocchiamo Penso che sia il momento Più bello Della nostra giornata O dei nostri giorni È ginocchiarsi davanti In un altro orto a cassoni O Davanti ai nostri piccoli Cassoni Fatti come volete Che ci dà Che potremmo guardare qui Possiamo vedere i nostri lavori Che facciamo I nostri trapianti E altre cose del genere Ecco Quindi in poche parole Ci sono molte molte cose Da poter fare In ginocchiati Qui sui nostri cassoni Questa per dire In verità È un'insalata Riccia A cuore d'oro Quindi un bel Un bel cuore Bello dorato Bello Giallino Tipo Giallo Ecco È veramente ottimo Come 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 insalata Riccia E quindi È un'insalata Abbastanza Abbastanza bella Ecco Potete anche lasciare la crescita Poi tagliate il cespo Che tanto Alla fine Non è che cresce tanto Non ci mette tanto a crescere Se prende bene Gli date acqua Due volte a settimana Avete un'insalata ottima In poco tempo Ecco Mi viene affiatoio Qui c'è Un'altra piccola cosa Che vi voglio farvi vedere La consociezione Tra aglio e cipolle Aglio e cipolle bianche Se non sbaglio O cipolle rosse Adesso non mi ricordo Mi sembra che ho messo Rosse e bianche Insieme ad aglio E questo è stato Seminato tutto a novembre È stato messo a dimora Novembre Altre cose Cosa dirvi Niente Perché comunque È un cassone Veramente ottimo Mi sta dando degli ottimi risultati Perché comunque Sta vegetando tantissimo Non vi nascondo Che gli ho dato Una piccola fertilizzata Con il mio concime Il mio concime liquido Che ho fatto Che è fatto con Letame Pucce di banana E ortica Ho messo tutto quanto Da macerare per Due settimane E adesso Le lo diluisco Utilizzo quello Che fa 5 litri 5 litri 5 litri di acqua scarso 1 litro di macerato Di ortica Macerato di ortica Con il letame Questo che stavo dicendo Il bagno Tolgo la rosetta Ovviamente Lì che c'è Quella rosetta lì La tolgo Bagno tutto quanto Il cassone E niente Così dà un po' Di Di forza E sicuramente Tutto naturale Perché l'ho fatto io Ecco Questo è il lavoro di oggi Io vi saluto Ciao a tutti amici Da quello che è tutto Ciao Ciao a tutti amici Ciao a tutti amici